La prima giornata di After è andata molto bene, siamo decisamente contenti, tanto pubblico, soprattutto tanto pubblico interessato a tutti gli argomenti, quindi una certa varietà, cioè dalla parte magari più tecnologica, digitale, più legata agli sviluppatori, fino allo spettacolo, ai momenti anche di approfondimento con Elasti e con Federico Taddia, alle comunità tematiche chiamate da Regione Emilia-Romagna che hanno fatto il sold out, a ieri sera, questo è un momento piuttosto particolare allo spazio 35 con Eleva e quindi con la musica DJ set, musica live, ballo, però con i temi del digitale al centro e quindi con queste proiezioni meravigliose. Siamo molto contenti, speriamo che anche oggi sia una giornata piena di gente, in una città dove c'è oggi il sole, tantissime persone in giro e il fatto che comunque il Festival Digitale insomma vede anche tante persone provenienti da altre città che girano a Regione Emilia e questo ci fa solo piacere.